Il Festival Cos'è? Noi e le cose? Nasce un progetto che nasce circa un anno fa. Noi cominciamo a riflettere, un gruppo di persone con competenze anche diverse, sul tema che per noi è strategico, che è quello dell'educazione alle cose. E cominciamo a riflettere su come questo tema sia fondamentale affrontarlo partendo dai bambini. Un altro concetto che sta dietro, e un'altra idea sta dietro a questo Festival, è il tema dell'identità dei luoghi, in particolare l'identità del luogo, del grande luogo, che va da Firenze fino al mare, che è il luogo in cui si producono e si vendono tante cose. Quindi da lì l'idea di mettere insieme questi due piani, il concetto di educazione alle cose e quello dell'identità dei luoghi, di organizzare un festival che nasce per i bambini ma è dedicato in realtà a tutti.